Un'altra novità molto interessante che è stata recentemente aggiunta in Canva è la possibilità di realizzare dei webcast, ovvero registrare la nostra voce sopra le slide che noi stessi abbiamo creato, quindi creare dei video che poi possiamo facilmente condividere nelle nostre piattaforme. Si tratta quindi di un'opzione molto interessante che sostanzialmente ci permette di registrare facilmente lo schermo del nostro computer, molto utile per creare delle video lezioni a distanza, quindi molto utile anche per chi per esempio si occupa di corsi online, ma questa opzione può essere molto interessante non solo per gli insegnanti ma anche per gli studenti perché gli darebbe la possibilità di poter argomentare i loro stessi prodotti utilizzando la loro voce, quindi un'opzione molto interessante anche dal punto di vista inclusivo e dal punto di vista anche dell'accessibilità, quindi nel momento in cui alcuni ragazzi magari si occupano della parte grafica ci potrebbero essere altri ragazzi che per esempio potrebbero occuparsi proprio della fase di registrazione e in particolare della fase audio. Ma vediamo come creare i nostri webcast, si tratta di un'operazione molto semplice, come prima cosa dobbiamo scegliere un modello di presentazione, quindi tra le presentazioni scegliamo il modello più adatto al nostro progetto, inizieremo quindi a modificare poi il modello scelto aggiungendo i nostri contenuti e una volta che abbiamo finito con le modifiche possiamo avviare la registrazione. Avviare la registrazione è molto semplice, basta cliccare qua in alto a destra su questi tre puntini, si apre un pannello che ci offre diverse possibilità, a noi interessa questo, presenta e registra. Cliccando su presente registra veniamo quindi reindirizzati allo studio di registrazione di Canva, è una funzionalità in fase beta quindi ancora in fase di sperimentazione, questo significa che prossimamente potranno essere aggiunte delle ulteriori opzioni a queste interessante funzionalità. Quindi clicchiamo su vai allo studio di registrazione, impostiamo la nostra telecamera e il nostro microfono e quindi clicchiamo su avvia registrazione. Nel momento in cui parte la registrazione la nostra webcam comparirà qua in basso a sinistra, noi possiamo parlare per presentare le nostre slide, possiamo poi spostarci facilmente da una slide all'altra utilizzando le frecce di navigazione di Canva. Qua a destra possiamo aggiungere delle note al nostro progetto. Una volta che abbiamo terminato la nostra videorezione cliccheremo qua in alto su termina registrazione. Nel giro di pochi secondi la nostra registrazione verrà caricata e una volta caricata abbiamo sia la possibilità di copiare e condividere un link nelle nostre piattaforme oppure possiamo scaricarla nel formato mp4 e quindi salvarla nel nostro computer.